PromCamp è la prima edizione di un laboratorio con 22 ragazzi degli istituti superiori tecnici e dal 5 al 9 marzo 2018 ospitato alla PromFacility di Rovereto. La PromFacility è il laboratorio di innovazione dove si sviluppano prototipi di prodotti mecatronici, quelli che mettono insieme la meccanica, l'elettronica e l'informatica per creare del valore aggiunto e dell'innovazione sui prodotti industriali. All'interno di questo progetto gli studenti hanno realizzato un prototipo relativo al problema dell'Industry 4.0, in particolare la Preditive Maintenance, mettendo insieme competenze multidisciplinari che spaziano su diversi ambiti, che vanno dal Machine Learning, Artificial Intelligence, alla comunicazione di rete e alla Cyber Security. Nel nostro caso specifico il nostro gruppo di ricerca ha collaborato con gli studenti sulla sensoristica e sull'uso di piattaforme per abilitare soluzioni per l'Internet delle cose. Invece per quanto riguarda noi, invece degli aspetti più funzionali, si è parlato degli aspetti di sicurezza e si sono affrontati i temi più delicati per quanto riguarda la messa in sicurezza sia delle comunicazioni che della gestione dei dati e della loro privacy. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.